Con l'arrivo della pioggia slitta il cantiere in via d'annunzio. L'intervento per il ripristino del manto stradale a causa dei lavori sulla rete del gas dovrebbe durare un paio di giorni, ma la data d'inizio non è ancora stata comunicata. A complicare la situazione è proprio l'incertezza delle condizioni meteorologiche. Per questo motivo la ditta che si occuperà dei lavori è stata concessa a una finestra di 10 giorni per la manomissione della strada. I provvedimenti una volta che il cantiere aprirà i lavori saranno i seguenti. In via d'annunzio nel tratto da via Varesina-Viale Rimembranza sarà istituito il senso unico di marcia con direzione da via Varesina-Viale Rimembranza e deviazione del traffico proveniente dal comune di Sanfermo su via Risorgimento. Infine la bretella di collegamento tra via Varesina e via d'annunzio è interdetta al transito veicolare eccetto residenti e frontisti.